Allora se la situazione non vi appare troppo diversa dal solito vuol dire che sono stato abbastanza bravo comunque oggi ragazzi voglio parlarvi di una decisione alla fine neanche tanto grande che ho preso e soprattutto cosa ho fatto per metterla in pratica Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video allora diciamo che oggi per la prima volta credo che sto apprendendo tutta questa storia del chiamiamolo Sadie Universe perché non so veramente come definirlo più seriamente del solito come potete vedere infatti davanti a me ci sono non uno non due tre anzi quattro monitor di cui questi tre sono touch screen perché perché questa qui da oggi in poi sarà la mia regia perché ho fatto questa cosa perché ho preso questa decisione perché comunque devo direvi la verità da quando il canale è stato hackerato le cose sono cambiate proprio internamente a me nel senso che come posso dire ti accorgi di volere tanto una cosa un attimo prima di averla persa e quindi comunque quello che ho voluto fare in questo momento è cercare di rendere per quanto riguarda il canale Sadie Tech un qualcosa di più professionale possibile anche se poi in realtà sapete benissimo che io sono fatto in un certo modo quindi cercherò di trattare il canale Sadie Tech nel modo più professionale possibile come magari si richiede ad un canale di 100.000 iscritti non vuol dire che non ci sarà più leggerezza su questo canale ma semplicemente vedrete le cose fatte in un altro modo poi nel frattempo per rimanere sempre nello spirito che ha accompagnato fino ad oggi noi tutti quanti c'è il canale Sadie dove vedrete il making of di questa postazione che prevede tre monitor touch screen e un monitor lì ma adesso ne parliamo allora come vedete lo studio è leggermente cambiato ho cambiato posizione allora ho sentito la necessità forte fin dal primo momento di avere dei supporti davanti a me sia per poter controllare la fotocamera che ho di fronte in questo momento sia per poter controllare altre cose non lo so se devo vedere qualcosa se devo leggere qualcosa se devo cambiare qualche schermata e soprattutto perché avete capito cosa intendo per professionalità lavagnette così non le vorrei più utilizzare vorrei utilizzare ecco qualcosa a schermo ora non so se voi avete mai visto i telegiornali quando praticamente soprattutto quelli della mattina che c'hanno i telegiornali che fanno vedere i titoli dei giornali che c'hanno praticamente quei tavoli con sopra gli schermi e loro allargano evidenziano eccetera eccetera ecco volevo ricreare una situazione del genere penso sia la cosa più vicina a quella che io potessi realizzare alla fine il risultato non è neanche male per adesso tra l'altro ho scelto di tenere i due monitor laterali a questo qui centrale in modo verticale non orizzontale magari per avanti potrei cambiarlo ora ovviamente gestire quattro monitor è una regia intera perché non dovrà gestire soltanto la telecamera con cui sto registrando ma anche un'altra telecamera che è lì e molto probabilmente una telecamera dall'alto che dovrà scorrere da qui a lì ci vuole qualcosa di non proprio basilare che io ho lì diciamo che poi io quando si tratta di fare certe cose esagero un pochettino però praticamente che cosa mi sono inventato allora praticamente ho dovuto creare una soluzione che fosse abbastanza potente non soltanto per registrare ma anche per streammare perché piano piano ci stiamo arrivando anche a quello e non so ancora cosa streamerò ma vorrei essere in grado di streammare un pochettino tutto quindi da che componente partiamo? ovviamente dal componente più importante del pc perché ovviamente per gestire tutto questo ho creato una specie di pc server mostro perché è proprio un melting pot di roba partiamo dal componente più importante ossia l'alimentatore perché voi sapete voi che siete ormai su questo andato tempo che il componente più importante di ogni configurazione pc è sicuramente l'alimentatore ho utilizzato un alimentatore che ho tra l'altro testato con Falco penso una settimana, dieci giorni fa di cui sono rimasto molto molto sorpreso sinceramente non mi aspettavo una qualità simile da questo alimentatore di che alimentatore sto parlando? dell'XPG Core Reactor nuovo alimentatore 80 Plus Gold di XPG su piattaforma CVT è qualcosa di molto simile ai nuovi Deepcool tipo il DQ650M quindi piattaforma GPU però personalizzata, customizzata e devo dire che il risultato che ho avuto nei test è stato veramente fenomenale non è un alimentatore base è un alimentatore che costa ma comunque per il mio sistema che è quello che praticamente dovrà lavorare più di tutti volevo qualcosa che fosse come posso dire il più affidabile possibile quindi ovviamente non si risparmia mai sull'alimentatore men che meno oggi sono partito dall'alimentatore che tra l'altro è un 750W ma non avrei avuto bisogno di tutto questo vattaggio ma so che poi molti si infervolano quindi di tutta questa potenza perché il processore che abbiamo utilizzato non è sicuramente uno di quelli che consuma di più ma è sicuramente il best buy del momento quindi inutile che ci giriamo attorno stiamo parlando del Rezen 5 3600 processore 6 core 12 threads cosa molto importante questo processore per motivi di stabilità non che overclockato non lo sia che se lo si fa bene è stabile però per motivi di stabilità ho deciso di tenere a stock così come mamma l'ha fatto ospitato sopra un MSI B450M Mortar questa base che vi sto nominando l'avete già vista in un video precedente qualche tempo fa che cosa ho cambiato a questa base? ho cambiato la scheda video perché? perché sono passato da una soluzione AMD a una soluzione RTX infatti sto utilizzando la RTX 2060 Super perché questa scelta? perché la 2080 Ti era un po' troppo per kill la 2070 Super pure avrei voluto utilizzare una 1060 ma ho deciso di utilizzare la RTX 2060 Super perché? perché grazie all'introduzione del nuovo codec NVENC e anche ai nuovi Tensor Core riusciamo ad avere una gestione ottimale soprattutto del settaggio streaming tramite appunto questo codec quindi per registrare per streamare è una scelta che ci ho messo un pochettino a farla però penso di essere soddisfatto inoltre una RTX 2060 Super se mai dovessi aver voglia di farvi vedere qualche gioco e al momento le piattaforme di streaming non mi sembrano che vadano oltre i 1080p 60fps dovrebbe andare più che bene se poi un giorno passeranno a 4k 60fps non è un problema perché tanto scheda e video per giocare a 4k 60fps stabili su tutti i giochi a dettagli massimi al momento non ci stanno il case avete imparato a conoscere è Chief Tech non mi ricordo il nome perché è cubico si apre e se mai mi venisse voglia di cambiare qualcosa ma non è quello che voglio fare lo faccio veloce cosa molto strana e molto particolare voi in questo momento state vedendo 12 GB di RAM DDR4 ma in realtà sono 20 perché? perché sono due banchetti da 8 e poi uno da 4 perché 20 GB di RAM DDR4? perché 16 ho avuto l'impressione che per streamare registrare e fare altro al momento per come lo voglio intendere io non fossero sufficienti quindi mi sono trovato un banchetto da 4 guarda gli altri e ho detto sai che c'è? facciamo 20 20 GB di RAM DDR4 3000 MHz CL15 sono delle Vengeance LPX nulla di trascendentale ma sinceramente questo PC deve fare esattamente il suo lavoro e deve farlo bene in modo stabile non mi devo andare ad ammazzare a fare nulla di troppo particolare per quanto riguarda lo storage abbiamo un Samsung 970 Evo PCI 3.0 da 500 GB con 500 GB dovrei essere in grado anche di poter registrare grosse fette di filmati che poi ovviamente posso trasportare da un PC all'altro da tutta la postazione di rendering che non è questa qui ma è un'altra forse ve l'ho già fatta vedere o forse no perché devo ancora finire di aggiustarla tramite SSD esterno quindi dovrei stare abbastanza tranquillo poi ovviamente non è che mantengo tutti i file qui sopra SSD si tolgono da qui si mettono da un'altra parte ovviamente in backup come tutti i video che io faccio sul canale sono tutti in backup quindi se mai qualcuno dovesse di nuovo ri-hackeralmi il canale sappiate che comunque i video sono salvi quindi posso sempre rimetterli da qualche altra parte su Suddiview vi ricordo il link in descrizione del canale Suddiview ora il making of di questo pc è stato molto particolare perché perché praticamente era un pc già montato ma che comunque è successa una cosa particolarmente strana non so per quale diavolo di motivo io qui già avevo montato un Ryzen 5 3600 sono andato a rimontarci un Ryzen 5 3600 e non me lo leggeva più vado a vedere la versione del BIOS mi diceva primo gennaio non lo so del 2019 cioè dell'anno praticamente un anno fa il che era strano perché io mi ricordavo di averlo aggiornato prima quando ho provato il Ryzen 5 3600 a questo punto mi viene il dubbio che non sia la stessa scheda madre e che non ho idea di cosa abbia fatto fare alla vecchia mi 450M Mortal perché ne ho comprate penso un paglio e quindi non so che fine abbia fatto quella vecchia vabbè comunque poco male ho inserito il 24G che sappiamo è un processore Ryzen con scheda video dedicata vabbè che poi tra l'altro vedete in un video se non sbaglio settimana prossima questa settimana invece vedrete anche una configurazione gaming molto simile a questa con delle piccole cambiamenti e niente installato il BIOS tempo 5 minuti ed è andato tutto perfettamente a posto quindi comunque c'è stato questo questo mistero di dove è andato il BIOS aggiornato con un pochettino dove sono i vestitori cassettisti e i profileroll vi stavo dicendo siate clementi se non vedrete una regia perfetta se sto ancora abituando ad utilizzare il tutto piano piano continuerò a modificare le cose sempre di più affinché sia tutto il più pronto possibile niente ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensare di questa mia scelta e decisione a questo punto secondo voi è la mossa giusta per il mio canale avere finalmente una regia dopo tre anni che faccio video tre anni e mezzo quasi secondo me sì secondo altri magari no staremo a vedere niente ragazzi mi raccomando lasciate mi piace iscrivetevi a Saddiviu link in descrizione perché per vedere come ho montato tutto vi posso assicurare che la cosa ha molti riscontri comici quindi io direi di andarla a vedere c'è il canale in descrizione di Saddiviu commentate condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao